Ciao sono Marco Magro del sito giocaratennis.it e se anche a te piace giocare il doppio ma non sai bene dove metterti, come muoverti, se entrare e giocare la volée oppure lasciare la palla al tuo avversario, allora ti invito a guardare questa video analisi di qualche punto di doppio che ho giocato assieme a tre amici dove ci sono degli spunti veramente interessanti per capire come posizionarsi in campo, come muoversi e anche gli errori da evitare. Andiamo subito a vedere il primo punto, prima a velocità normale e poi al rallentatore, c'è il giocatore in fondo che serve, in kick a uscire, risposta mia, ok, ok punto. Andiamo a rivederlo al rallentatore. Il ragazzo con la maglia azzurra serve, gioca un servizio in kick a uscire, io rispondo di rovescio, ecco già qui come posizionamento potete vedere, cioè puoi vedere una cosa, il ragazzo con la maglia grigia si è spostato dal centro del campo, vedi, qui, scusa, dal centro della sua metà campo, verso destra per coprire il lato del corridoio, non appena vede che il suo compagno serve in kick a uscire. Eccolo qua. Guardate lo spostamento per coprire il corridoio. Bene, adesso cosa succede? Io rispondo lungo. Ecco, guardate sempre il ragazzo con la maglia grigia cosa fa. Giustamente guarda l'uomo a rete, non si preoccupa del suo compagno a fondo campo, ma guarda l'uomo a rete per vedere se fa dei movimenti per intervenire, nel caso in cui il suo compagno abbia risposto corto. Però in questo caso non c'è nessun movimento perché il suo compagno gioca in diagonale. Vedete che il ragazzo con la maglia grigia sposta l'attenzione dall'uomo a rete al giocatore a fondo, in questo caso su di me. Finta, vedete la finta che fa verso sinistra per poi spostarsi a destra. Io cosa faccio? Gioco una palla corta. E poi, eccola qui, vado, vedete, subito a rete. Non me ne sto a fondo campo che magari l'avversario con la maglia azzura mi gioca una contropalla corta, ma vado subito a rete. Il giocatore tira sui piedi dell'avversario. L'avversario, in qualche maniera, insomma, la butta di là. La butta anche corta. Il ragazzo con la maglia grigia mira al corridoio. Io riesco a tenere un rovescio basso. Ecco, il ragazzo con la maglia azzura si trova la palla addosso e io, in controvalzo, riesco ad entrare. Qui, in una situazione del genere, bisogna decidere chi va, perché o va a prendere la palla, entra in smash il ragazzo con la maglia azzurra, azzurra, però veramente deve andare tanto indietro, oppure prova una veronica, il ragazzo con la maglia in grigio. Erano i primi punti, quindi magari nessuno se la sentiva e quindi viene venuto fuori un pallonetto. Andiamo a vedere un altro punto. Eccolo, guardiamolo a velocità normale. Sono io al servizio. Ok, andiamo a rivederlo un attimo al rallentatore. Io servo. Vedete che i giocatori in campo sono posizionati comunque in modo corretto. Servo. L'avversario cosa fa? Ecco, guardate subito, anzi guardiamo prima il giocatore con la maglia grigia cosa fa? Risponde di rovescio in back alto. In doppio meglio evitare le risposte alte, perché l'avversario a rete può intervenire e schiacciarla in basso, come avviene in questo caso. Però andiamo a vedere un'altra cosa. Voglio soffermarti, scusami che sono troppo indietro, su un altro aspetto. Non so se ti ricordavi lo spostamento del giocatore di prima a rete, che guardava l'uomo a rete e se ne fregava praticamente dell'uomo a fondo, cioè del suo compagno. guarda un attimo cosa fa il ragazzo con la maglia azzurra. Ora, io servo e il ragazzo con la maglia azzurra dalla posizione di metà campo avanza. Poi cosa fa? Eccolo qua. Sposta lo sguardo nel vedere quello che fa il suo compagno e nel frattempo avanza, avanza, avanza. Vedi che si trova praticamente a un quarto campo, quando prima era a metà. L'avversario interviene e gli tira praticamente una palla sui piedi. Fosse stato a metà campo, nell'attesa di vedere cosa faceva l'avversario a rete, l'avrebbe sicuramente presa meglio. Quindi anche qui il concetto di guardare quello che fa l'avversario, aspettare prima di muoversi, non muoversi in anticipo. Ma andiamo a vedere un altro punto. Andiamo a vederlo prima a velocità normale. Ok. Ok. Qui sono un paio di aspetti da notare. Allora, andiamo al rallentatore. Il ragazzo con la maglia grigia serve un kick a uscire sul mio rovescio. Io rispondo, centrale, l'uomo rete interviene. Qui il ragazzo con la maglia bianca, il mio partner, prova ad andare ma giustamente me la lascia perché vede che sono in corsa. Io con un taglio la gioco verso il corridoio dell'avversario. Avversario che ci arriva, grande atleticità, e da lì alza un pallonetto. L'unica cosa che può fare da lì è alzare un pallonetto. Guardate qui cosa fa il ragazzo con la maglia azzurra. Guarda. Ok. Guarda da dove si trova il ragazzo con la maglia azzurra sulla riga di metà campo. Alza il pallonetto. Il ragazzo con la maglia bianca qui prova uno smash. Vedi che il ragazzo con la maglia azzurra giustamente cosa fa? Guarda il ragazzo smashare e va indietro. Vedi che durante lo smash il ragazzo con la maglia azzurra è tornato indietro a tre quarti campo. Cosa corretta perché vuol dire osservare quello che sta facendo l'avversario. Quando tutti e due i giocatori sono a rete e magari uno sta per smashare è giusto fare due passi indietro per avere il tempo e lo spazio per gestire e ricevere l'eventuale smash. Ma andiamo a vedere un altro punto. Ok. Ottimo. Andiamo a rivederlo un attimo per capire un po' gli spostamenti. Il ragazzo con la maglia grigia serve al corpo. Ok. Qui ecco il ragazzo con la maglia blu poteva usare un po' di più e chiudere. Gli è rimasta sulle corde. Va bene è andata corta. Io provo un pallonetto. Sbagliatissimo perché qui c'era tutto lo spazio libero per giocare. Però in quel momento mi è passato per la testa quello quindi provo un pallonetto. Qui un po' di indecisione tra i due ragazzi. Da questa posizione è difficile smashare in modo efficace perché se no il giocatore con la maglia grigia avrebbe tirato una racchettata al suo compagno. Quindi l'appoggia profonda sui piedi del ragazzo con la maglia bianca qui. Le scarpe gialle. Che se la trova sui piedi. Ottima volè bassa. Me la gioca sui piedi. Io riesco a giocagliela al corpo. Ecco da qui pallonetto. Veronica. Io cosa faccio a questo punto? Gioco una palla in diagonale cercando di metterlo in difficoltà. Diagonale che però non mi è riuscita perché il giocatore con la maglia grigia la gioca qui. Il mio obiettivo era buttarlo fuori dal campo. Cosa fa a questo punto? Gioco una palla bassa. Pallonetto. Ora domanda. Chi va a prendere il pallonetto? Meglio che vada a prenderlo chi ha il diritto facile. Da questa posizione se il giocatore a rete con le scarpe gialle fosse andato a prendere il pallonetto probabilmente si sarebbe trovato la palla davanti al volto. Quindi avrebbe dovuto fare un twinner quindi un colpo comunque difficile. Decido di andare io perché sono più vicino alla palla perché sono quasi a metà campo e soprattutto riesco ad arrivare sulla palla da di lato. Non ce l'ho da dietro che quindi sono obbligato a fare un twinner o un colpo sopra la testa ma ce l'ho di lato. Un po' come a padel per intenderci. Qui ecco qua ottimo spostamento del ragazzo con il mio partner che non sta fermo lì ad aspettare la palla ma va a coprire il lato di campo lasciato vuoto perché questo questa parte di campo qui scusa ecco questa parte di campo qui la vado a coprire io cosa faccio alzo un pallonetto guardate anche qui cosa fa il mio partner parte vicino a rete dove c'è la freccia io alzo il pallonetto vede che l'avversario sta per smashare torna indietro a metà campo qui cosa si può fare niente se non dire bravo bravissimo all'avversario che trova un angolo perfetto quindi da questo punto nulla da dire questo per sottolineare che nel momento in cui l'avversario gioca il pallonetto deve andare a prenderlo chi la palla va a prenderla chi è più indietro e chi riesce ad avere la palla sul dritto magari ma andiamo a vedere un altro punto andiamo a vederlo a velocità normale ok rivediamolo un attimo servizio del mio partner io gli indico un servizio a uscita qui gran risposta dell'avversario con la maglia grigia che gioca uno slice basso di rovescio e viene subito a rete a prendersi il punto interviene col dritto che gioca ecco una palla a metà campo qui il mio compagno è stato molto bravo ad avanzare perché se si fosse trovato a fondo campo si sarebbe trovato la palla sui piedi e quindi avrebbe l'avversario a rete avrebbe avuto tutto il tempo per schiacciare qui interviene di dritto l'avversario con la maglia grigia anche qui guarda cosa succede che lo vediamo a rallentatore ottimo spostamento del ragazzo con la maglia azzurra che dal lato destro si sposta verso sinistra gran palla corta del ragazzo del mio partner ecco qui guarda la situazione c'è tutto quanto il campo libero qui e lui va a giocare un pallonetto e poi l'avversario il mio compagno gioca sull'uomo a rete quindi gran spostamento ottimo spostamento del anzi partiamo ancora dalla risposta nel momento in cui vuoi rispondere in back di rovescio o di dritto fallo in maniera efficace e vai subito a rete non star lì ad aspettare la palla a fondo come in questo caso ecco qui vediamo rispondi dentro al campo deciso e vai subito avanti a prenderti la palla senza paura perché è un doppio quindi si attacca poi qui interviene magari chi si sente un pochettino più sicuro chi ha la palla sul dritto quindi nel momento in cui arriva una palla centrale qui meglio che vada a prendersela chi ha il dritto senza paura qui ecco qua giusto spostarsi quando si vede uno spazio di campo libero si va direttamente dall'altra parte a coprire come fa benissimo ragazzo con la maglia blu poi con un po di tranquillità e lucidità però ci vuole un po di esperienza nel gioco del doppio bisogna osservare un po di più le zone lasciate libere in modo tale da sfruttarle ecco se vuoi giocare un pallonetto che sia veramente un pallonetto veramente alto altrimenti riesca di servirla su un piatto d'argento al tuo avversario come hai potuto vedere farsi un filmato mentre si gioca anche in palleggio è fondamentale per capire o meglio per vedere la realtà di fatti perché magari pensi di giocare in un modo mentre in realtà ne giochi in un altro e se hai piacere di ricevere una video analisi dettagliata e personalizzata di un tuo colpo può essere il servizio il dritto rovescio anche un colpo al volo allora ti invito a cliccare sul link qui in alto dove trovi tutte le informazioni oppure scrivi un email a info chiocciola giocaratennis.it o lascia un commento qui sotto e ti mando il link con tutte le informazioni sulla video analisi a distanza